Signori, Aguna Matata, oggi video notturno, sono tutto Ducati perché insieme al Joker oggi... Salve! Andiamo si go-kart! Eh? Eh? 34 anni non ci sono mai andato si go-kart. Io invece quando ero piccoletto, che ero più snello, andavo con la mia mia e facevamo le competizioni. Ah, mi ricordo! E' il 250. Subito un bel pollicino in su, perché oggi... Era necessario. Perché oggi... Andiamo in pista. E secondo voi, fateci sapere qua sui commenti, non barate, chi potrebbe arrivare al podio? Siamo 10, eh? Ducati. Vabbè, ma lui Ducati, io sono Team Aprilia. Ciccio Gamer, colo zero. Battere Claudio. Glaclo, ne rimarrà uno solo. Mega Killua. Sorpassare Ciccio Gamer 89. Black Turbo, andare per i della precedente. Benny, essere ultima. Simone. Sto... Sto... Mamma mia, tutti i carini. Jogger, non sbrattare. Dai, io spano bene la fibra curita. No, fino a metà. No, fino a messe. No, 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 no! Eee! Alvinaie! Bacchua! Non voglio staggare! Parà! Ok! Che merda! Scusate, bro! Ok! Neeeeee! Aaaaaa! Tu non lo lì! Lì, lì, lì! Così, così! questo l'ha fatto bene ottimo, curva ottimo vai molto bene eh sì perché abbiamo finito merdone quanto sei arrivato? secondo bello è figo è figo sei primo merdone? brutto stronzo allora ragazzuoli guardate lo schermo davanti a voi dai 2 1 vai così 1 2 1 1 1 1 1 1 1 E' un'altra cosa che si è riuscita, è un'altra cosa che si è riuscita, è un'altra cosa che si è riuscita. E' un'altra cosa che si è riuscita, è un'altra cosa che si è riuscita. E' un'altra cosa che si è riuscita, è un'altra cosa che si è riuscita, è un'altra cosa che si è riuscita. E' un'altra cosa che si è riuscita, è un'altra cosa che si è riuscita. E' un'altra cosa che si è riuscita, è un'altra cosa che si è riuscita, è un'altra cosa che si è riuscita. E' un'altra cosa che si è riuscita, è un'altra cosa che si è riuscita. E' un'altra cosa che si è riuscita. non so bene ho voluto di vita ma pure me ma mi ha distrutto bella questa vai a scendere e sono benedici e sono benedici a merda vai perfetto ci accelera il sole porco zio volevo vedere i tempi vaffanculo oh ti ho dato una botta a te ti ho sventrato sconvolto ma adesso è bucio di culo ma se hai cattetto o rotto il culo che bucio di culo siamo riusciti a tocchiarlo no è vero mamma mia la carta è la prima che era perfetta e là mi davi tipo due secondi e poi sporcavo quella e sporcavo questa dico la carta mi ha un motore mi eravamo così tosti mamma mia io passavo vicino a Merodica e facevo levati tu hai fatto il migliore 46,6 io 47,6 è un secondo è un scemo è un scemo è un secondo io 50 50 ma voi non avete capito quando guidavo io a blue card faceva uscire la plastica e come sentiva la puzza di fumo ecco che mi era venuto addosso ma non è capito l'ho sbappolato a un certo momento io stavo proprio a volare comunque è stata rivolta un secondino un secondino prendiamo il polizio del giro a tribù si col c***o sull'onda simica che sono stato io quella è la mia scuola sono un po' tutti morti ma con quale decisamente ma c'è il Joker che è morto Claudio è morto lui un po' forse forse lui un po' forse forse ma non lo tre vi vedo un po' io ho fatto il record del giorno ragazzi vaffanculo signori subito un bel polizio nel su perché abbiamo deciso di tutti quanti siamo tutti d'accordo tutti tutti di risfidarci e di vedere come va adesso è il cuscinetto ma basta l'acqua dire va è il cuscinetto ma sta asciutto va levati è il cuscinetto vai signori vai quanto bene bellissima no no molto bene no 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 è il cuscinetto bella 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 molto bene Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Vai, 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 vai! Conorna! Vai, 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 vai A few moments later Vai, vai, vai Primo e terzo Struzzo 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 Signori Audio, prendi la larga Struzzo Struzzo Play Quanto Struzzo 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 è vero, è vero vai 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 Vai, vai Bene, ok, va bene Vai, vai, vai Che sta? Che sta? Stiamo per dentro 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 Stiamo per dentro